Anche se non mi sono mai sposato, so che una delle cose più complicate per una festa di matrimonio è organizzare il tablò. Vi voglio parlare del tablò de mariage. Cioè trovare il posto giusto alle persone in quella sala. Perché devono vedere dove si devono sedere. E tu giustamente mi dirai, ma che c'entra questo con il Vangelo? Beh, a parte che non è mica facile capire qual è il posto giusto delle persone, ma soprattutto non è neanche facile capire quando dobbiamo stare al nostro posto in certi momenti. Non deve essere facile stare al posto duro. Ne sono un esempio due discepoli di Gesù, tali Giacomo e Giovanni, che erano fratelli, che hanno provato a prenotare i posti più vicini a Gesù quando lui diventerà un giorno il Messiae glorioso. Una cosa che di per sé non è sbagliata. Perché il desiderio di questi fratelli è semplicemente stargli vicino. Dobbiamo stare vicini vicini. Ed è un desiderio bello, sano, santo. Tutti vorremmo stare vicini a Gesù. Il problema è realizzarlo questo desiderio. Perché penso che anche tu hai il desiderio di stare vicino alle persone che ami tanto, no? E qual è il posto giusto per farlo? Stare vicini vicini? Vicini vicini! Per fare un esempio pure, io amo tanto i miei genitori, ma che significa? Che devo stargli accanto tutti i giorni? Vicini vicini, ma io non ti voglio proprio! Direi proprio di no perché la mia scelta è stare più vicino agli altri. E non posso neanche stare vicino a tutti, perché scontenterai sicuramente qualcuno. E infatti gli altri dieci apostoli saranno infastiditi da questa richiesta dei due fratelli, pensando perché lui può e io no. Quindi ripeto la domanda, qual è il posto giusto nelle tue relazioni? L'amore che ci trova sempre al posto giusto La risposta non è proprio rosia. Tanto è vero che Gesù risponderà a questi due che per stargli veramente vicino, devono bere un calice e vivere un battesimo che è fatto di sangue, non di acqua. Quindi se vogliono stargli vicino bisogna saper soffrire. Quindi il vero posto per stare vicino a chi ami veramente non è mai quello più comodo. Anzi spesso non è neanche così vicino, a volte è dietro le quinte, altre volte addirittura fuori, perché è meglio se non intervieni, anche se hai la tentazione di metterti in mezzo magari scavalcando il posto di qualcun altro. In altre parole chiediamoci sempre qual è il nostro posto con tutti, perché ci vuole poco a scambiarlo con quello di un altro. Come fanno ad esempio gli amanti che si sostituiscono al coniuge, ma non essendo il loro posto vero, vivranno sempre male quella situazione. Ma ricordiamoci soprattutto qual è il posto di Dio nella nostra vita, perché se Lui è al primo posto, tutto il resto è al posto giusto.